Giuca Scassella a Verissimo rivela chi vincerà l'Isola dei Famosi. Giuca Scassella è tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 10 marzo, in onda dalle 16.10 su Canale 5. Ecco le principali dichiarazioni nell'intervista a Silvia Tofanin. Giuca Scassella come sta dopo il ritiro dall'Isola dei Famosi. Sono un leone, sto benissimo e voglio tornare sull'isola. Lunedì ho i risultati medici e se sto bene torno là. Il mentalista, rientrato dall'Honduras a causa di un problema ad una costola, parla delle sue condizioni di salute. Ai microfoni del talk show racconta, ho preso una brutta botta in barca e mi sono rotto una costola, ma mi dispiaceva troppo abbandonare il reality, così ho nascosto per un po' il dolore. Comunque se mi diranno che sto bene e la costola si è calcificata io torno in Honduras. Giuca Scassella a Verissimo scrive il nome del vincitore dell'Isola dei Famosi 2018. Giuca, nel corso dell'intervista, scrive e sigilla in una busta il nome del naufrago, che secondo lui vincerà. La busta verrà aperta nella puntata speciale di Verissimo dedicata interamente a questa edizione del reality di Canale 5. Isola dei Famosi 2018, i concorrenti ancora in gara. Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Ionatan Cascanian, presentatore, Amauris Perez, ex giocatore di pallannuoto e allenatore, Bianca Azzei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di uomini e donne. Il comico Gaspare, nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro, Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Simone Barbato, Mimo, Franco Terlizzi, Persi nel trainer, Elena Morali, showgirl, Nadia Rinaldi, attrice.